Il pesce fresco in commercio è sicuro, è il procuratore capo Roberto Rossi all'indomani della conferenza stampa riguardante l'operazione Oxygen Fish condotta insieme ai Nasse di Firenze a rassicurare i cittadini. Comprendiamo, dice la prensione dei consumatori, già dalla scorsa settimana in concomitanza con l'attività svolta sul campo dai Nasse di Firenze, il pesce è stato ritirato dal commercio. I supermercati di Arezzo sono stati particolarmente collaborativi e ci hanno fornito tutte le indicazioni in loro possesso. Tengo a precisare che i prodotti ittici attualmente in commercio sono sicuri e non provengono dall'azienda indagata. Nel secondo filone d'indagine verranno appurate tutte le posizioni, comprese quelle appunto dei due supermercati che per il momento però sono in stranei fatti. S. Lunga ha già dichiarato di volersi costituire parte civile nel futuro processo, ribadisce poi in un comunicato stampa che non vende pesce decongelato come garantito dichiarato dai suoi fornitori e dagli innumerevoli controlli delle autorità governative preposte. S. Lunga scrive ancora nel comunicato è quindi vittima di frode da parte del fornitore Ittica Etruria e pertanto si è costituita parte offesa nel procedimento penale. Rassicurazioni anche da parte di Unicop Firenze abbiamo provveduto, scrivono anche loro in un comunicato ufficiale, a ritirare la merce proveniente dall'Ittica Etruria già da alcuni giorni. Attualmente i prodotti della pescheria sono tutti sicuri e controllati. Vogliamo aggiungere che di routine eseguiamo dei controlli sulla quantità dei nostri prodotti. In passato non abbiamo mai riscontrato anomalie sulla merce proveniente da questa azienda. Certo però in seguito all'inchiesta che si è aperta abbiamo provveduto a fornire agli inquirenti tutta la documentazione in nostro possesso.